Eh sì, più gli anni passano, più ci si abitua a vivere. E quando ci si abitua a vivere? La vita è questa roba qui per tutti, nessuno escluso. No, perché magari uno pensa, ma va là, anche essere uno di quelli importanti, uno di quelli che contano, che sono tutti i giorni sui giornali, alla televisione. E' lo stesso, dai, è uguale. Per dire, io se fossi Berlusconi, quando c'è la pubblicità cambierai canale. Io se fossi Pippo Baudo, mi porterei una brandina in televisione. Io se fossi Gassman, non ne farei una tragedia. Io se fossi Licio Gelli, mi presenterei nelle liste del partito radicano. Io se fossi Tinto Brass, provarei a scopare. Io se fossi Pertini, avrei un solo rimpianto. Quello di essere vissuto all'epoca di Craxi. Come noi, del resto. La vita è così, più o meno una vita vale l'altra. Dopo un po' ci si abitua a tutto. Il mondo perde di fascino, ed è naturale ritrovarsi a guardarlo con un certo distacco. Anche i più entusiasti, come me, a una certa età finiscono con non stupirsi più di nulla. Anche i più entusiasti, come me, a una certa età finiscono con non stupirsi più di nulla.